Presentato all'interno del Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, il programma accademico 2023-2024, più precisamente si tratta di un progetto che permetterà di partecipare ai corsi riconosciuti dalla regione toscana in ambito teatrale, cinematografico e televisivo. L'obiettivo dell'Accademia è quello di creare opportunità lavorative e divulgare l'arte della recitazione e non solo. I corsi prenderanno il via novembre e saranno gratuiti per chi è disoccupato. Allora, questo progetto nasce grazie alla Compagnia Teatrale Circo della Luna. Alla fine di questi due anni potrà scegliere una specializzazione in recitazione teatrale, cinematografica o televisiva, riconosciuto dalla regione toscana, avrà una seconda sede anche a Capannoli tramite il centro di formazione Quec e la possibilità di dare lavoro agli iscritti al centro per l'impiego, i quali tramite un voucher potranno accedere a questi corsi in modo totalmente gratuito. I corsi saranno tenuti da personale qualificato proveniente da tutta Italia. Il progetto è la conferma della vitalità artistica del Teatro Alfieri, che propone varie stagioni teatrali e tante iniziative culturali. Il Teatro Alfieri è vivissimo, sta per partire la stagione off. Io ringrazio come sempre e quando mi è possibile la Compagnia Residente Circo della Luna, che si occupa del teatro non solo da un punto di vista della guardiania e del custodia, ma proprio lo fa vivere, è diventata la casa della cultura della nostra comunità e quindi un grazie immenso per la loro attività. Proprio in questi giorni, l'Alfieri ha ospitato oltre 500 candidati a comparse nel film prodotto da Rai Fiction, che verrà girato a novembre proprio in Garfagnana. Grazie a tutti.